No, no, non ci sono questa scena E come li fatti? No, no, sei una foto Ma che chiedo? Ciao ragazzi, ma che sei tu zonata? Ciao Ciao raga, raga Ve l'avevo già detto ieri che andavamo in live con Jackster e Fredster Adesso siamo Raga, facciamo due partite a testa Guarda, guarda Il sera scritto domani dai con Fredster e Jackster su forza Bella Oh, ti ci sono in zazzone Mi piace perché l'ha visto Vicente dopo Ramona, Filomarro, Pico Metti pronto Bacchina Raga, comunque le prime due partite le faccio io, Jackster Dopo Io me l'ho visto Quanto gusto Non mi ha capito A me se l'ho seguito Bobbo A me l'ho seguito Vero? Sta che ti... A me l'ho seguito Tutto il cuore Però si copre e certamente si copre Vedo qua Mi seguo Chi è? Che bello è l'ho seguito Io metti pronto Figa Basta James Io mi sono... Io Ma ecco E invitatelo Ah, mi si è baccato Tutto il cuore Invitato James Io Ma la vera Francese si è baccato In su Ma quella fetta Ti piace? Ma non si può se baccato Cerchilo E lascio io Tanto cosa Ma andiamo in partita E se si baccano Mi fa entra Ok Ma da più Alcone Naga Prima se Se non ho mosso niente No, 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 no Perché non mi faceva muovere i neri James Ora fa parte di sto gruppo Ed è in attesa nella lobby Raga, comunque Se non sapete Sarete nel canale mio Di Francesco Ragazzi Oh, vieni qua Frankster Vieni verso di me No, sei troppo ritardato Non so Eh, vabbò Dei ritardi, vabbò O io comunque Vi faccio vedere Il nuovo ballo Che ho preso Adesso 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 Ti faccio Quello è il caldo Però ieri Per quelle che ho fatto Non so Non so E va bene Sono scostumato Perché? Non già ne vedi C'ho fatto Ora si mette la sua Io Ma se ieri Ti buono Tu c'è Ma tu si fotte Ma non mi piace Bannoso Non bobo Ok Io non c'è Ne ho fatto A sbagliare Si fotte Un bobo non vuoi? non vuoi non vuoi quando non viene non vuoi si va si è bassissima allora quando quando Manuel tu stavi stavi sempre anche il pomeriggio dopo il pon vieni a casa moderna vieni qua vieni qua venivo qua però quando ci stavano quando non ci stavano venivo qua ma non ci stai siano vecchi invece quando ci stavano vecchio poi ci stavano quando ci stavano stavo pure io avanti è mio vieni qua vieni qua vai eccolo ecco un ballaggio un po' attenta dove? dove? chi è? 42 ma dove stanno? stanno a tirare all'albero a sud sono uccite ma che fa loco nella fronte ai materiali non ci stavano ma ci stavano ma ci stavano qua guarda un po' che ho dentro di vita adesso non ti parlo ho dentro di vita tengo o dove? ma rianima rianimami dimmi se stavano sto prendendo ma mi hai mai sparato ma con la bomba 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 l'ho preso e che c'entra non ce l'ho mai al bomba chi è? questo non è la sua di vita se lo prendo il bomba l'ho preso ma la roba, subito la popa dovevi sparare, la popa nata ma non ci sopra la roba, non è, tu sei inguaiato Giuseppe ti è forte di 3.000 volte si fa così tu riesci a niente vero, ma se vuoi dire? Giuseppe non ha cittadino? eh, stai zitto, domani tu riesci a cittadino ma è nata un po' che è scherzo a giunto un po' che non funziona Dicca le ha fatto scherzo a passo di Frank e Jack faccio Frank e Frank Carrie non ha fatto un po' scarso nooo guarda la line eh le ho già visto non ha fatto scarso di braccia eh si non è se tu dicevi io giusto o meno non capivi ma che cosa? lui faceva passare e ora non lo so e lui faceva passare e lui faceva passare non è ma che cosa? ma che cosa? se vengo io a porco gioco se vengo io facciamo franches freddo se vengi tu? io e te ecco mi posso vincere e allora non lo facciamo però io che buona questa partita e io come siete? ora ho fatto bot io ho bot intanto tengo gli occhi per ieri tu allora non parlo poco se vedo gente non ti dico poco se non ti dico poco se non ti chiede tu non capisci quanti anni ti dico vieni nano ma io cambio il nome non ti dico se ti dico non ti dico ma non 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 ti dico e forte di ma e e e Giuseppe questo è più forte che questo Come non vuoi? Fino a fare qualcosa Fino a fare una crescita più forte che questo Ah non lo so Ma il nostro cammino è meglio là su E' pronto si è più forte C'è già E allora Ti fai in mano? Forse Cosa forse c'è stanza Però tu ti fai in mano Dai sono basso E' molto comodo No di quanto Non mi sento Poi è un po' se vuole Come? E' un po' E' un po' mi fai tra il salto Ma lo ha salto Eo Ma c'è gente no? C'è gente E' un po' mi fai E' un po' mi fai Alla scusa E non è una cosa Cosa? Cosa? E non è una cosa C'è un bambino? Che è? Non cambia più niente. Non ti dobbiamo più niente. Prima di tutto. Ah? C'è un bambino. Tu rimasci la sua parte? Adesso non è il bambino. Gli altri bambini? Probiamo. C'è un bambino? Oh la un buon bimbo, guarda che ci stanno passando, guarda, guarda quanto lontano stanno, guarda lo pesca il malo, ma non lo abbaccio, guarda. Guarda lo pesco il malo, guarda lo pesco il malo! Guarda lo pesco il malo! Sto molto bello con vado! la sua? la sua? la sua? la sua? i tuoi e qui liatano le d'accento le umpe bello non si ha detto il tuo tuo tempo si, non si è non mi sono non mi sono non mi sono spilla ma è stato il tuo vorrelle l'ha stato una forza questo sono le parti di emanuele c'è un senso secco? no, c'è sì, però tengo la nuova e c'è il calcio tipo questo ma questa è ancora la nuova la nuova è quella tipo fucile a fatene tengo la pistola nuova non mi aiutai tengo la pistola nuova e perchè? no, c'è bisogno di un senso zio guardalo un po' che cavolo invece fosse a vendirlo allora, se ti guarda il calcio e guardate, c'è dei sette eh, ma non sono dei cerchini ma sono dei cerchini e quali servono? dei cerchini eh, pure che è l'altro che è l'altro ci sono pezzo, ci sono pezzo no, attenno no, atendo attento appena sul pezzo quattro lì posso? ma si guarda nìììììì! ma no la, non è brutto mi sento l'amore con la nuova ma no la ha non è brutto come fa l'ora e non avete visto niente? grazie, quando vuoi ci ricorda? oh, qua boh, io te la voglio sbagliare vicino a te no no, lo hai detto qua io, io, io oooh oooh oooh, ti schifo giusto? beh beh tu stai scena da qua ora mi hanno poche mozzini da sotto non sei niente nooo ma caldo non hai detto ti hanno detto di cerlo? no no, io! tutto qua e sei comodo? ma sei comodo ma sei comodo marco ha grino c'è l'ho c'è l'ho sta gente sta gente sta gente noi a sud io l'ho visto io l'ho visto vanno a dire noi non guardo le tue amiche vanno a lavorare non ho visto è una capa bianca e danno come si sta dove piglia tutto il materiale per un ma c'è la moglie di abilato il video ma lascia un pochino che lo fissate prima di rio ma facciamo fare la sfida del ledding a giuseppe ma no ma per il ledding si allenta sentito qualcuno non riesco a fare chi è più forte giuseppe io dell'edding io non lo so guarda qua guarda qua tu che vuoi fare qui ma tu prima il muro ci hai messo mezz'ora a farlo il muro è mezz'ora perché è un po' lento la sensibilità ma guarda ma così ma stagione qua che mila che mila prendi preso 24 e si sparano proprio io l'ho presa pure io e poi jeppe dice c'era che mila ho detto per tutti i nani ha detto che mila che mila no ho detto 24 24 si sicuro che era 24 e lei dove c'è geni scemo no stagione quale l'albero ma non c'è più incepi no mina e nemmeno e nemmeno e nemmeno aiuto e nemmeno da dove c'è sta? ma c'è da dove c'è? oh! è nemmeno per il culato è stato un colpato ma cosa? da dove? ma no, ma come c'è? oh! non c'è che... ma dove c'è? sta giuuu ma si sta risolta! ma sono la! ma no! sei capa scala! ma no, ma sai se tu mi distruggi la scala? ho preso poi quella, hai visto? Giuseppe, ma quanta vita hai visto? ce l'avevo scendo, mi ha levato cioè, mi ha levato tipo al 91 mi ha fatto rimanere al 9 di video poi mi ha preso dietro al muro un altro perché dopo mi sono pure, non sono pure ma è pure Giuseppe si sta all'allangeggiata tu qui dove? cosa faccia via? cosa faccia via? no, dicevo il pompa non ci sta all'allangeggiata ma dove? non ci sta all'allangeggiata chiudi, non ci sta all'allangeggiata chiudi, non ci sta all'allangeggiata ora mi ha detto allora, e poi dice che sono più scherzo e chi è? io e sentite, e poi dice che sono più scherzo allora, cos'è? ti ho detto tu hai scelto in un'azul, lo sai? ho detto poi, dite che io sono più scherzo niente, ci ho solo? ah, già il video è idea, dove ha zna? a quello non c'ho fatto due edi, ciò ma chi è? quello narco? si, no, no, l'altro lascia a chiara a dove va dentro la scuola il cocco dov'è? cocco balloso arrivo tu non puoi pagare tu non puoi pagare tu non puoi pagare hobby se mi fai dare a piacere il fumino un cazzo di succo oh la gente una colpa l'angelo e l'altro colpudino l'hai visti? oh no stanno qua stai su questa casa l'hai visto il pallogino? si io l'ho visto e qua stanno andando qua eh dai mi spargo di cosiocchino è meglio però stanno andando da voi stanno sparendo stanno pure dietro stanno due dietro con la girosfera stanno ma nemmeno senti quel cammino e qui qua no sicuro oh oh non mi ha più far caduto ma ne c'è vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vai vai vieni qua vieni qua che mano che l'ho mai fa questa è botw eh voglio però mi spargo non so che si parasse mi porto e corre ma no vieni qua ed eccolo che eccemmi, ha detto, si, ho fatto un ECHACE di dio, ma non è stato stato saltando a noia perché pensavo sto facendo da te perché hanno me io perché non mi sono tutto dove stavo la è vero fatto due partite si no ciao però l'agro team come giocato si però dovevi con me dovevi dovevi dopo le scelte io però io 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 però penso che era uno se era uno non faceva facilmente e mi chiedeva tutti ammette a cura non è in dieci che ci erano tutte di devo giocare una ragazza questa parte no la mia cosa sono tornati e poi primi Prima dici che è troppo veloce o dici che è troppo veloce? No, vado a riferirlo alla mattina Vuoi farlo prima col tempo o prima o senza tempo? No, senza tempo Dopo facciamo una gara tra il mezzo senza E come? Prima lo farai col tempo e dopo lo facciamo Ah, si, è vero, si, fate col tempo tutte e due Non va bene No, facciamo subito col tempo, che arriva prima No, no, non so di fare Io Prima dici posso dire il... cosa con il... il... jessica? No, no, no La sponda Ma non vado Ma sta andando fuori Con la jessica Non vado fuori con la jessica Ma è perché? Ma cosa sta? Sto là Sto là A dove? Ma no, l'hai... L'hai difesa, Giuseppe Hai visto come sposto? Dai, l'hai levato Ah no Ma lo ho fatto Ma l'hai levato Ah no, l'hai levato E l'hai levato E l'hai levato E l'hai levato Io facciamo uno più uno Ok Andiamo a te Dividi riu facciamo resi le casuvers per distruggire prima e tutt'oppo a me piace spammer il tasto per distruggire facciano tutti i vabbè adesso la prima faccia da simboli vuoi ma non sto voglio vai veloce aspetta ora sta giocando freddyster ahè fino a che fa o no come vai aspetta oh ti vuoi metto quello che vuoi te lo dico come si apro me lo sono scordato oh ti vuoi metto quello che vuoi te lo dico oh ti vuoi metto quello che vuoi te lo dico però danni scuoti no puri scuoti come siamo porca di oh oh costumato oh i devi morire la fiamma anche anche la spada no spada è quando devo combattere solo con la spada ma non ho contato dai ma la mette nel forziere forziere quadrato quadrato se lo vuoi voglio levare e non mi ricordo allora come sarebbe ma non voglio questo tipo di nena se ci fanno più che non manca ci fanno un po non so capa ma non è potente stanno andando non caglia niente giuseppe ti voglio amico questo questo è il cecchino questo è pesante e poi vuoi una cura e trappolo e trappolo e trappolo e trappolo grazie levo che le cose le fermo non devi aprire niente ma scombalgono le altre che stanno no no sta sbattando scombalgono quelle altre dai mi metti l'avvio dai mi sono raga scrivete sui commenti che è più forte non è il freddyster poi finiamo fai che dammi il suo punto ah no l'ho lì questo è tuo come hai spunto ah no il mio freddyster freddyster facciamo in ogni video che facciamo no dobbiamo dire almeno al hashtag qualcosa hashtag shish ok hashtag shish oggi hashtag eh beh dimmi le due anni anche se le so dimmi le due anni allora scarlo leggendario il poppa il poppa mu il pino anda e il cecchino pesante io invece hazlurp mi tengo la hazlurp il cecchino pesante poi lo scarlo leggendario la dico leggendaria il poppa il nonno lo so ah ok quello che è lì sape questo capo guarda subito per te guarda subito per te hai di quanti soldi non consiglio guardala che spavore guardala che spavore si ma dove come tu non lo so c'è caduta la lontana senti non vado ma dove sta ma dove sta e la vede dove ha passato non c'è da bene andiamo ma non voglio essere qui dai vabbè io si mi sono caduto ma lo prende scappato non è di 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 vai prende e vabbè io ho finito giuseppe ma no prende il basso ma che cazzo non c'è dove sta non c'è vai ma non c'è ma non c'è ma non c'è dove si prende scappato non c'è lei la struttura la struttura perché qualcuno no è venuto qualcunato dai j ah no non ti preoccupare sta modalità spettatore ah un po' giovane ah non conosco loro james ci senti aspetta ci senti ci senti james non ci senti ci senti james oh cos'è sti facendo la live oh cos'è sti facendo la live guarda figlia il nostro vai a me eh come che culo della madonna che culo sto nabbo che culo sto nabbo io ho sbagliato io ho sbagliato no ma che fai un'altra doveva stare ah no 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 non so cosa c'è rinnovato che cazzo non mi vido per un colpo non mi vido cosa c'è che c'è una misura non so che aveva in casa questa è propria azione perché quasi fuori no mi sono buttato io vai ok ok ma distrugge tutto chi è che ha detto oh ora la guarda il nostro un po' si pianta ma sta bussando? è strappo eh asciuttato prendi non stop eh dico lo scop prendi, prendi, prendi questo ruolo guarda 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 見 genio mi c'è che guarda 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 a me sta guardando guarda Ma chi stai guardando? Framester o Framester numero 2? Oh, perché non lo mancava? Perché non lo mancava? Oh! No! No, devo rinunciare! Sì, sono stato pulito! Bello! Oh, gioco io! Raga, gioco io! Infatti, oh, ti sfuggiamo tutti! Fai il gioco a fotografia, Genio! No, ma mi sto stagionando gioco, no! Sono! Cosa, cazzo? Non mi immagino, ma quando sei fuori! Hai visto, ma quando sei fuori, ma stanno venendo! Perché te! Hai visto? Ma sto giocando, almeno viene mi sto giocando! Come, tu hai visto fuori fuori? No, questo non va! Come, tu hai visto fuori fuori? Come, vediamo! No, sto discutendo, non vuoi dire! Ah? Stavo distruggendo tutto, non vuoi niente! Non vuoi dire, non vuoi dire! Facchiamo tutto! Fai, mi spari, mi spari, Emanuele! Miglio! Ahia! Scusa, andò, scopri, andò, scopri, andò, scopri, andò! Ho, mi spari, andò, scopri! Ho, mi spari, andò, scopri, andò! Beghi, sto drogando! Ho, bevuto! Beghi! Ho, bevuto! Ho, bevuto! Ho, bevuto! EllPUGIO! Ho, bevuto! Oh, ha, bevuto! Ho, bevuto! Ah! Rapporto! Ho, bevuto! Ooooooooh! a Gli avuta non doveva perché mai molto più M'è rimasto il nome di video Ma non è nel senso che volevi tu E se è più scarso di mezzo dicevo Non vabbè ma Ti corso? Si Io te la passavo subito Tu me ci passi dopo di... Poi cazzo Senti ti gioco se non posso andare Oh! No! Si vede che tu provo di me la... Si vede Io te stavo subito No lesvi cosa c'è di tu Eh! Aiuto! No! 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 Ho mai preso Ah! Ah! Ha scrivato perché è il battuto contro un'ultimo No! No! Basta! Oh! Oh! Non mi ha buildato! No! No! Non mi ha buildato! Non mi ha buildato! Non mi ha buildato! Non mi ha buildato! No! Non giochi! Ehi! Non ti fa! No! Mi ha buildato! Oh! Consolidale! Oh! Oh! ma non ho visto la presa il nostro ma come si vede che giochi molto più serio si vede che io sono più felice siete uguali ma non ho giocato un pochino più se hai visto se hai visto giuseppe me lo so accorto subito ma che c'è non ho mai giocato beh non ho mai giocato non ho mai giocato non ho mai giocato non ho giocato 3 voti perciò si chiamano ma soltanto perché viene soltanto una cosa perché sono più forte signor bantoso come una non ho mai giocato ma non ho mai giocato ma ci poteva non so si vede che abito non ho mai giocato No! Occadudo! Occadudo! Occadudo l'italiano! Raga! Hashtag Occadudo! Occadudo! Occadudo anche io! Occadudo anche io! Occadudo! Occadudo! E ho visto se li ho se li vaso sui! james 2 kg dopo giochi subito le facciamo dopo le arrabbiamo un attimo no ma era il jeppe che stava accanto pure io un attimo sembra che allora si può trovare una cosa del gioco aspetta vabbè ma ne pensi vabbè come ti metti un po eh cosa ti stai scelto ma poi vado giuntare giuntare pobres la dottagiarisci come entrare qui non lo vado già no le matello mi hai fatto sparare ma perchè? mi hai fatto sparare ma non mi hai fatto sparare mi hai fatto sparare non mi hai fatto sparare non mi hai fatto sparare imparare ma perché? ma per sto ferma i mobili non mi ho sparato ma perchè li buttiamo forza di sott'ott'ott' e allora io la prenderla attenzione arriva lui, la tigol la tigol una po' si beve la sfruta io lo metti contro me eh france guarda che sento come che hai mirato? hai perso la grondi con un secondo hai perso la grondi con un po' se l'ha chiuso però ci ha cercato a Clyde che cazzo è? hai tutta questa roba ciao aspetta James aspetta ciao ah è l'armadonna da short e chi ha? oh c'è un turno di vita eh buon altro hai detto che è buona non mi assai giù non mi assai giù non mi assai giù basta non mi assai giù basta con le tigol io ehi James Anna voi abbandonate oh ora fate pure con James ma io no no facciamo giù ma perchè? perchè? voglio giocare con voi io ma favo uno più uno noi stiamo facendo allenamento James che? non no non non dai che è il tuo io non 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 posso farlo ma stai no ma questo non so come si sta spammando il cazzo perché stanno male ma si sta spammando cosa quando ti spammando non mi so farlo oppure meno che ti ridete vabbè ti ne paura di morire ti beva slurpare l'or, fai fai e non mi dissi tanto Giuseppe lo sai che per te la slurpare è niente ma non fa perché la cosa ma non ho questo non mi fa ma non ho messo a casa hai moto oddio questo qua c'è un po' no perché l'ho sparato no è un po' no giuseppe guarda James non possiamo giocare con te stiamo facendo allenamento eh no tra noi due cioè tra noi bello mi dispiace non possiamo giocare no che c'è a me a me c'è lavata la mira poi poi c'è no si mette che si lavava la mira no 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 ragazzi io ci dico già una cosa ho detto tu chiedi proprio sul canale mi ed Emanuele secondo me votano Emanuele ma se il canale è nostro quello che c'è quello che vogliono bene quella che ai youtuber vogliono bene non mi senti più gioco è bello non ti riuscire la verità non do Jane non puoi giocare stiamo giocando noi e lui per il club vai giocare con il tuo amico io devo scendere no vai giocare con il tuo amico basta e noi possiamo noi dobbiamo giocare così gente non possiamo come quella volta sono entrato nel vostro gruppo tu mi hai cacciato via mi hai rimosso dal gruppo e quindi ma non puoi giocare che spardo aspetta se puoi giocare oh no no tru 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 oh non mi ha tenuto eh l'esercizio ma forza si è fatto così guarda tru 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 eh quando mi hai tolto ho 200 190 e come se ce l'ho 200 di vita eh come come guarda aspetta ua com'è Pure secondo te capire faccio solo assalto cecchino 200 o mi è andato bene ed è ancora con le 100 se stavano m'è dai 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 come non faccio struzzo, mi capitano tu non ti muovi mi capitano niente io tenevo 9 di vita ma non hai mai lasciato andò non va a lei non va non ho fatto quelli piccoli ma le devo andare in fatti di lì no z non mi ha lasciato mai si ma quando hai giocato quello eh ho fatto 2 kg hai giocato malissimo si 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 non mi ha giocato mai ha giocato più con Manuel e che cosa e che cosa giocare con Manuel e che si vede tu vuoi far vincere Manuel perciò quindi secondo te se gioco più forte secondo te secondo te può vincere no guarda con te vengo a correre forte perchè tu non sai che dici che dici che è più forte Manuel invece di un dio tu dici tipo che giochi più bene con Manuel giochi più forte con Emanuele che cacchio sparo io sparo e io sparo aperto io sparo e mi sparo a parte e vabbè Gli sapi fa sempre qualcosa di più così a tarde guarda con me provate come vado non va a chi no con me va molto peggio che cacchio manco li prego ma certo ma neanche tu lo prendi pure no io c'ho una mila che non lo so ma ma che non lo so costruire non me lo tolgo no sicuro non lo tolgo 90 forever guarda io manco una volta tutti a vuoto sbatti ma quando l'ho messo qui oh Giuseppe non fa un bo è messo qui su e lascio io tu so pioggiano la c'è ancora più il bobo oh eh sbaglio tutte le volte guarda lì da live scemo ma di che c'erano tu e non si si le prese no non ha più e però non è andato non me lo ho detto guarda l'agbot spazza una bella e condoni ciao ciao 8 di vita e questo è il mio gruppo si ringrazio se viola è grande città è un altro che fa Oh, perché mi fiorgo il banco, scherpone? Quindi Inizia a perdere la vita Già te dici che sono più forti di te Diventi Perché è svegli Si vede che sono più forti di te Ma state zitto, a me non mi ha mai visto ora giocare Oh, si, non l'ho mai visto, si, non l'ho mai visto Ho visto nella live E non hai giocato più bene Sì Ti bevo un altro sdruppo E perché sotto sdruppo? Che doppio Che amador Abbassa Alloracia Allora Allora Si bugga tutto il mondo Giuseppe Io lo so come ando io come ando io no ma buon salve mie signore si è bruccato per casa della scala aiuto io 8 di vita vengono 200 simboli vabbè con me ha sfiorato un pepe spacchiamo tutto che poi c'è un po troppo di roba non ci vuole e mani mani sto sciogurata la messa ma non ce l'ho non ce l'ho non posso ma non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho ma è vero io faccio questa cosa si spacca tutto il bordale all'interno bambino no grazie grazie che fa? ma ti puoi spacciare? ma no quelli bu ma no ma che fare? e poi ecco su e poi guarda vieni a vedere chiudi gli occhi vieni qua ti do giù risparmi eh lo so bene ma non avevo pensato ma ti permetto ma io lo senti ma tu ti ho giù il bintanato tu ti lo facci la casa per qua per tu oh io tu puoi spargare il testo eccoci ma tu hai sparato la tua testa e pure tu puoi spargare ma questa che il fare? ma tu dico no ma aspetta devi farlo sfruttare lo stesso colpo devi farlo oh le devi far colpire boh 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 non bevi niente mi sento facci venire il chiuso se non fai colpire ok ma te puoi putrere la casa ma io no ma tu puoi dati il colpo in testa mi ho levato 50 vai ti ho levato tu ci ho levato 110 ma no vai vai spacca tutto spacca lo spaccare non devi costruire bravo va 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 devo sinalizzare ma però sono schifo ne fossio c小 bu arda a te, guarda la differenza tra sparare a una struttura e sparare a te, la differenza è che lo so che tu muori anche adesso pure muori, ma almeno muoiono silenziosamente e non danno fastidio come loro guarda, vai da altra lato dove ci sei, vai da altra lato, ci partiamo quella di più facciamo la scala, oh ma anche...oh non si sa guarda che figata guarda, adesso sembra un poco rumore, bevi tenendo poi sono sconso uè fumo viva a due momenti a due momenti a donna luna al sole è sparata al sole è già un po' sparata qualcuno ha faccio la bianca è una madonna quando esiste un'altra oh che cazzo mi ha dato ai ground serve posto 5 non c'è sta bella di mamma oh mio dio mi ha dato tantissimo ma non ho il tempo di bella su cazzo ma forse si non sto manco guardando la mia schermata sta guardando la sua no ti sto incaricando eh ma ma sto guardando la tua schermata ancora sai che ne che è neanche sta rasgolando guarda mettissi no perché sta la scala avrà fase migliorati col volistico col volo è una bivina dico su una vera uno vispermo racchiavolo mi domandò ti vuoi vedere un presto ma 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 più domande io eh chiedi là DIGON dai spaccato a chi? spaccato vuoi la DIGON e poi ci taglio no no che sto facendo? oh oh che ha fatto? no si guarda ma mi sei ritardo così ma apri la porta su ma non so che hanno un po' che roba di lì ma quale vuoi c'è lì? ah madonna su su po' e che tutto asciugombo ecco come io? no con la prana eddo vai eddo ma cos'è? stai passando sotto il coscio per ritirare l'eddo no ma stai giocando ancora a me ma stai giocando un po' di tanti controlli quando? no stai giocando quelle tante cose si si vede stai giocando quelli che ho costruito no stai giocando quelli che ho costruito no stai giocando quelli che ho costruito io ah ma cosa che l'ha fatto? ma non è una mano le parole ma basta ma perchè voi partire lì? non è vero non è vero è vero no 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 e va boia ma ci metti 30 anni copri di là guarda me via la grande guarda me così non si va poi dice quello che non le so fai e lo and vabbè Emanuele quanto vuoi fare la grande con build e bar cioè spu che basta dai vieni sotto io li butto sempre no chi ti butti con la cosa? o la dico sul controllo quelli con la dico fanno una mira di merda se non mirano se fa un nanoscope non azzecca manca un colpo no 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 se tu Emanuele distruggi tutto e non vuoi continuare a buildare grazie che finisce subito continuare a buildare andai a spazzare eh però con Giuseppe non fa così pressiva eh sì sì perchè sono veloce ma adesso sono no no se vede lo vuoi vedere se ti preoccupo qua eh con no 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 Emanuele gioco bene ok vuol dire che io gioco qua e quale con questo condiglio con Emanuele gioco bene oh 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 o oh oh w oh calt stop ok non non no 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 oh 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 no vabbè mi hanno dato solo il creme di cosa questo lo hai detto qua come è che non le cosa? questo qua lo so oh si vede che con dei sceni stanno giocando con loro ma lo soggiorno proprio lo soggiorno benissimo lo so che sono benissimo bellissima mia madonna prima non palla ma perché vuoi far vincere prima tu eri andò e allora perché stai girando qui alla mezzo come mezzo ti manco ma perché tu mi fai ridi perché io fai palla e tu non mi riesci a prendere mi fai ridi eh non t'ho freddo solo quella volta giuseppe prima volta mi manca viservo quindi oh mio dio mi ha fatto cadere tutto oh che fulo più heal balla e la sera piu ah io i qui ma ma questo muro mi ha fatto così guarda eh eh dai gioca come gioco con me io mi devo cagare io mi devo cagare ma come fa io faccio questo ma perché già ha detto schius oh no strappo come entrato scusate non lo voglio è entrato qualcuno ha perso di grande ma è vabbè come stai giocando capri giocati giocati gioca come giochi tu ecco come wow frangea lo devi dire io i domande faccio molto più veloci ma adesso non lo so no cometi per cometi mi spiega mio dio ho modificato spara il mondo fuori io e la madonna che cura ah mi ha sparato quella bomba senza quella tipo io bevo gioco con sgruppi con questo e lei io e non lo so e me no quindi avevi venito mi avevo sbrutato e sblevuto e sdruppo tu giusti tu puoi faccio tuff I i i i i i i i i e gli avrò verso lo scudo a giugna e giù e giù atti sotto per psicologo vai giù e dai vabbè mandio e poi in bolo io non mi ricarico le armi non mi ricarico e il bitto di giù le bellezza che spiego come come non venga guarda 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 oh gli ho dato una piccola come è? di che è di che è di dai, di che è di ti ho venuto giù no, ti ho venuto giù no, ti ho venuto giù lo che ti ho destrauto che c***o non piace oh! non ho preso dove l'ho preso? io l'ho ucciso per me non ho preso eppe, che è successo? eppe, che è successo? oh, roba ma che c***o? liscio? eppe, perchè ti ho paura di essere piccola non ti voglio darmi piccola non ti voglio darmi piccola eppe, se ti voglio darmi piccola ragazzi no capisci? e cosa va a bollare? e cosa va a bollare? a dove lì? tu ti abbassi con questo io va a bollare e noi hai visto? si si a miro qui e a Emanuele che battano a miro ah no no 17 di che sono? che sono? no sono 7 ma c'è un maligno? già beh questo dirà il pantone di campo questa assegna la vittoria Emanuele un bollare gli pro non si mi ha usato la banola ma ne aggera io lui hai detto ma volevo ma poi ma non sono fatti ma ora non vuole ma quando chi li fa? ah ah ma la faccio solo cos'è qui non vabbè l'altro, però la faccio solo cos'è qui esci, ma non l'ho detto, ma la faccio solo cos'è qui esci, ma la faccio solo cos'è qui oh, l'erbo ma come? non c'è, non c'è non c'è non c'è ma c'è pure manuel pure manuel pure manuel costruiva perchè non facevi così ti buttami io mi buttami non c'è non c'è stato dietro non c'è stato dietro non c'è non c'è non c'è ma non c'è ma non c'è oh così cacchola eeeh sprecci oh che sto facendo che c***o ha un build a me io l'ho fatto uno 3 kg eh si 3 kg si ma cosa faccio ma tu hai fatto 3 kg ma tu hai fatto 3 kg ma non l'ho fatto 1 1 ma l'ho fatto 2 2 e allora tu sei io l'ho fatto 3 e come ne siamo 8 scusa l'ho fatto 2 l'ho fatto io dai dai ma sono fatto 2 come sei c***o ah si bagga tutto il mondo e quando si ingolta dai oh oggi è l'ultimo l'ho fatto io l'ho fatto io l'ho fatto una l'ho fatto una l'ho fatto e che c***o è un po' bello e non c'è e non c'è dove andava dove andava e la bicicletta qua c'è e che tanti parti c'è l'ho fatto e non c'è l'ho fatto andava a quanto andava a quanto andava a quanto andava a quanto e andava a quanto e Ehi! Un drone! Un drone! Come hai fatto? Entra dentro o no? No, stai con chiudendo già dal salone di fidget Un drone! Stai con tutti 3-3 kg Stai con tutti 3-3 kg Stai con tutti 3-3 kg Ehi, stai con scendere? Giuseppe, hai qualcosa da dire? Sì, perché stai con scendere? Sì, veramente stai facendo partita Ah ma non è! Ma c'è un piccolo scarico! Ma voi, mi trappa le pia... Come? Ma se stavo in botto, non mi ha pigiato E' veramente giusto a te che stavo facendo partita Non è vero! Allora, non sparare, non sparare! Ti sparavi subito! Allora, con il manone si giocava così, guarda un po' Guarda un po' la schermata, non giocava così Con te facevo così! Per te è normale si faceva così! E dopo un poco ballava! E poi vediamo così! Non puoi... Non puoi... Non puoi... Se stanno facendo un video... Se stanno facendo un video... Se stanno facendo un video... Io hai gesto un video, lo senti? Sì! E cosa? Ranno questi! Ma io faccio una nuova! Non ho già... Eh, ma non ho! Perché io hai gesto? Eh sì! Ma che non ho scesso... Tu hai detto che sei un video... Giuseppe, tu hai detto che sei un video... Ma che cosa? Se non sei manco più forte di me... Che cosa ti farei essere un video? Eh, un video lo so... Lo so... Ma ho visto te una botta... Tu ha detto Giuseppe! Tu ha detto! Tu ha detto! Non ci sapevano quello! Non ci sapevano quello! Non ci sapevano quello! Non ci sapevano che ti amo! Che voleva far pigi a te veramente? Non la volevi far pigi a te! Nooo! Con te giocavo piano! Ma non è giocato! Eh, mi pianto! Non ci sapevano! Tu guardate la vai! E' sicuro giocava più forte! Eh? È più forte Manuel gioco forte con i manuagri con mezzo non guardava la voce dove di vita davanti c'è la vita c'è il 120 118 facciamo una torta ma come stai fattato? mi fa vincere pure a manuola dai c'è comunque più forte di lui di? di manuola dai c'è comunque più forte di manuola dai io sto su instagram mi mettete la like sicuramente un bel salito sicuramente un bel salito sicuramente un bel salito sicuramente un bel salito è impossibile ah, sai qui c'è? tu non ho detto quando ho deciso di non ho? è mila sicuramente un bel salito non ho mai detto che è più forte mi pensate che è più forte la mia manuola del francese non ho mai detto non ho mai detto non ho mai detto non ho mai detto come dire è tutto suona ho voglia potete ciò che ho detto levato lo scudo una donna e ha preso bibili a sbocca non sembra che si è sciolto e allora non gioca di più non gioca con un per cento ti detto attuale a lungo ho fatto il privato 110 è asciutato tutto in bordo ma hai visto che ho fatto, hai visto che la pista è più veloce non è veramente l'amber della grappa ma si stava più forte di Emanuele, perchè progetto lo vuoi fare, che cazzo stai tu lo dici 12 di Emanuele è più forte di Emanuele è tutto buildale, è forte tuo ma a sparare no, sono tattica oh, ti ti ha, io cos'è, dove è? ho l'abbia, ti ha, io cos'è, dove è? e come è già? ciao ho l'abbò, tuo aspegno quanto si fa? oggi è una gavola è bu e mi spara! no, no, non mi viene già per te per il G20 ma non mi spara ora gioco a serio perché è business? no che cosa fa in ragionamento? se ti bevo in ragionamento, non gioco più con te io non mi sto bevendo ma non è poco poco, io stavo a bibi sempre e chi ha detto che vale poi né se dico che fanno non vale più ah mi ha detto un'altra maniera il primo arrivo a 30 kg vince eh tu e non me la f***o perché sto a 13 non me la f***o ma tu dici che f***o te scusate no che smi dava te tu hai detto te bacchi che so faccio oh 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 ok ah 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 ma come ah ma di sicuro che viene giudato ah ah ma basta 200.000 ma ah 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 che c'hai che c'hai tu? che c'hai tu? niente che c'hai tu? niente ah vieni aspetta tu che? dove c'hai tu? che c'hai tu? che c'hai tu? che c'hai tu? un pò vieni un pò vieni un pò vieni un pò guarda qua ma c'hai tu? che c'hai tu? che c'hai? secondo me no via forse ho potuto trovare l'uno cosa ho potuto trovare l'uno? non lo so armi forse ah questo beh arriva sul castello ma non si può entrare fino a guarda ah ho capito no abbandono sono tanti giocatori qua tipo uno dovrebbe spawnare sul castello e gli altri otto dovrebbero salire facciamo quello la vispec tanto no no è francese io voglio decidi questo o questo è un'altra cosa è un'altra cosa ma che posso giocare che posso giocare oh no mi serve altre cose porto di ingresso no 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 porto ma mi non ti lo fa spaccare a te a te ti fa spaccare No. Quindi l'hanno riaggiustato, non si può guidare. E c'è il tempo. No, allora si può guidare l'impianto. No, non si può guidare. Bene, non c'è ancora casa. Io sto tronando solo armi bianche. Ma è bello che sto tronando. Io sto tronando solo armi bianche. Guarda qua. Guarda qua. Io sto tronando solo armi bianche. 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 No, ma fatti qua che non ho. Io sto tronando solo armi bianche. Io sto tronando solo armi bianche. Io sto tronando solo armi bianche. Bianche. Io non ce l'ho fatto. No, ma non l'ho messo infinito, ma l'ho fatto. Come lo faccio a te, però? e mettono sotto la zona bianca io cosa ho? sotto la zona bianca una parte mia oh in etapa io a me devo andare? in etapa hai capito? no devo andare da Iulia perché? devo andare a fare la piatta no ah ciao papì devo andare da Iopolia non è che tu hai tu? no mi ha accompagnato Rachele Rachele? no stavo a circolo prima ho andato a vedere la passita che è staginato? che è staginato? Rachele? non è che tu hai tu? 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 oh non è che tu hai tu? oh non ce l'ho dico è il gennaio non è che tu hai tu? sono, sono ormi bianca ma io c'ho solo ormi bianca guarda il mio lutto non è? guarda queste mani guarda, guarda me sono ormi bianca bianca un po' che c'è? non c'è? sì, va bene no, non voglio c'era la cassa enorme questa qua era la cassa enorme l'ho aperta harmless Marco mi trovo una angusta bianca mi pare c'è un buomo ma sono papà io non ho papà 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 io come si papà io tivo che? guarda guarda scusa dico è purissimo come si fa la vita? no tu non stai ti ho visto papà io vado ok vedi c'è pure il cecchino? no no perché? ti hai mangiato? no perché? ti hai mangiato? che lo sai? che ho? dai ci fatti non la dico no non la dico no non la dico vieni allora che è? ti ho visto da questa macchina? non la dico non la dico non la dico no non la dico ti ho visto da quella guarda chi c'è? sami parla un po' son felicitino oh mi sono perso è purì non spesso li sali assfaa ti trovate scavara assfaa ti trovate scavara oh oh ma è stato passato è stato passato è stato passato è stato passato tutto è mica che cuore boh 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 prova a venire da me ma ci sono i difetti da me ci sta leggendario revolver col miri ah oddio questo è un leggendario Kim o che prendo malforma Matt reco ma senti il fatto sottotitoli con ma perchè a me non mi fa vedere il tuo puntino no si è buggato no franzetto si è buggato la la voce ah il suono eh lo voglio perché c'è te con il 90 basta ma perchè non mi fa vedere il tuo nome basta no tu no ah ming no no guarda la però ti piace a te con le armi ti ho fatto un pescovo ma non c'è niente ma non ti fa uccidere ma non ti fa uccidere ma tu hai più roba di me poi a me non mi fa vedere il tuo nome quindi non ti fa uccidere ma non ti fa uccidere ma ti piace con le armi grazie guarda la come fai a andare dentro di una vita dove stai nan boh tu dove stai tu dove stai tu dove stai pazzi kadi ma ti fai mai vorrai po 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 ma ti avrai si trova dove ei non ti sta niente se non si trovi cosa e perciò dov'è ma è bello guarda no guarda non mi rasse sei cosa si trova no no cos' trova Sono sceme Lo so Disney Eh, è sciogliere No, però mi schifo una trucca da qua Sì, bella l'altra arma Tutto schifo, ma ci sta andando Io posso vedere tutto da un normale Nel po' solo la roba bura Solo i stovetti trovano Usa bura bacante dentro la cosa Oh, mi sto pagando a bella 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 Cosa? La pisa Tu hai trovato un bella Un bella Un bella Un bella Guarda Trova solo pistoline Pistoline assalti bianchi Trova Un bella 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 però io voglio essere qui ma grazie a tutti, ma sembra bemmo tu schiazzi mi dà me non, 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 non non, 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 non non, 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 non non, 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 non non, 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 non ma buon adesso glassori asserse invece è te ma perché si vuole dire che si vuole andare a te sta là che c'è il proprio lavoro è una cesta normale ma ovviamente cosa trovo? un grignetto bianco guarda che cosa trovo? un grignetto verde che cosa è? è il figlio che cosa è? che cosa è? che cosa è? è il figlio che cosa è? io mi piace capito che ho davano fatto non è in un'ottomata è un po' l'esene è un'ottomata è un'ottomata aiuto prendi ordemme guarda me guarda me io trovo pensi che è un qualificatore non è possibile non è possibile non è possibile guarda me guarda me guarda guarda trovo pure le casse che non si possono aprire trovo a me come si senti con la polizia guarda 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 Zalca 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 No vieni Zalca Non ho furito da una Non muro Acropone Acropone Zalca 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 Acropone Zalca 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 Bid tutto il giorno quella della leggenda non ha fatto non ha fatto vieni ma non è fuori settembre oggi è quasi il mio lutto eh non c'è il mio lutto nooo non c'è non c'è non c'è vuoi gioca esci da la ma non è guarda la guarda rompettino il gorgoro è bello esci non basta brigarsi esci e basta dai muoviti si e ho andato e dove stato? e dove stato? mi dispiace ah si questa è la risa bene nooo nooo la è è è uno due tre quattro quattro è è due tre è 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 Poi dopo, ti ho fatto due headshot, vero? Non c'ho i colpi, non c'ho i colpi, è un altro mitone. Non trovo che 18. Ma che... Come hai vinto tu? Ah io! Quelli dei, ora rifacciamo. E' bellissimo. No, non è bellissimo. Posso capirlo? Ti devo decidere. Non vedi? Adesso. Adesso. No, poi rifacciamo. 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 E' bello. E' bello. Si, è bello. Eh. Poi esplodire pure il cammino. Vabbè. 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 Vuoi sparafitto? E te quanto? No, così ti inventa. Ti inventa. Ti inventa. ci inventa. No, la cosa che c'è l'acqua è stupenda. Ah, però non va, la non ci può iniziare da qua. Ma questo è bruno. Eh, ma non ci piace questo. guarda che trovo, guarda che trovo, guarda, ond'è il mio trovo, ecco che è dove trovo, tu non mi lascia non vado, non lo sa, non puoi trovarlo, ci puoi fare, chi ne fa, soy? guarda è assolto bianco è assolto bianco guarda è assolto bianco è assolto bianco guarda è assolto bianco guarda questo gioco fuoco sloca guarda guarda è assolto guarda è assolto guarda è assolto guarda ehi sto trovando solo due munizioni di urchino ma noto questo ma non c'è nulla di munizioni, c'hanno 54 io ovviamente non lo trovo mai in città primo vedo ehi non lo faccio è la casa del cazzo non c'è nulla di me Grazie Sì I don't know You're just one look I know I'm a guy Ehm I'm a guy 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 Yeah c'è la bomba nuova il culo però eh chi è sta gente? dove stai tu? perchè aspetta vieni vieni dall'altra parte è stato un po' no, davanti non è quello non sto là non sto scherzando insomma, dove stai? dove stai? dimmi dove allora aspetta, sta al centro non è questa dai, dai, dai dai, fa uro, fa uro, scuola scusa, non mi era di un nevolo vai, dai, dai, te prezi ma hai visto? no 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 non lo vado a distruggere dove stai? perchè mi ha fatto uscire una minuta? perchè prendo su quella cosa? perchè è il P90 dove? eh eh ora lo usi o lo usi subito o non lo usi poco decidi perchè non lo usi? no vieni fuori vieni fuori almeno ti entra lì dentro devi stare fuori almeno vieni tutte le armi dove stai? dove stai? dove stai? vieni invece dell'angolo eh dove stai? dove stai? dove stai? dove stai? oh cavo guarda guarda che culo come fanno a prenderti? dai dai non non le faccio due ma le faccio due do no non le fa mai devi faccio due se no la partita finisce lei tiene güa via via c'è ti SAN allora hai quanto dentro del pianto questo è la prima demassata ma io io no 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 sono mai più fortunati è merda però se no è una arma leggendaria epico questo qua qua è merda ma io ora io un'arma leggendaria epico stava trovo schiaffi ma sono una bella a ma trovo sempre sto termico in merda che devo fare con il termico oh 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 voglio che non si cuore dia guarderla 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 oh angè non mi cerca non mi cerca guarderla cosa? guardami guarda a me invece guarda a me guarderla guarderla ovviamente è qua che trovo un altro termine ma c'è una questione perché prima sono l'acqua e l'esplosione più che il cielo a presto 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 a presto